Sarà una festa tranquilla, sicura, approvata dai genitori. Aha, quindi una festa brutta. Sapete che dovremmo fare? Stare qui, ordiniamo cinese. Voi adorate Hunan, vero? Mettiamo Netflix, sarà perfetto. Papà, lo sai che sono una brava ragazza e che non farò niente di folle, ma lo giuro, se passo ancora una serata qui, costretta a sentire che fuori dalla mia finestra gli altri vivono felici, io potrei impazzire. Domani sera possiamo ordinare tantissimi ciao main e fare indigestione di serie. D'accordo. Sì, grazie! Sei il papà migliore del mondo? Grazie, signor P. A birra party. Sei venuta? Sapete per caso tu o la tua amica sexy, ciao, come tirare la birra fuori dal fusto? Non hai preso il rubinetto? Non avevo capito che fossero cose separate, perché vendermi un busto di birra che non posso usare? Garber! Ma che è una festa tranquilla, sicura, approvata dai genitori? Le feste tranquille hanno gelato e topping? Per me è davvero grande. No, non ascoltarla, non è mai stata una festa, non riesci a capire quanto sia grave la situazione. Dobbiamo andarcela. Cosa? Andarvene? No, 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 ma io ho appena fatto il chili. Garber, il chili non è un piatto da festa. Avete visto? La festa va già alla grande. Che ci fa qui, Charlie Reed? Oh, no. Mia madre mi portava qui quando ero piccola. Davvero? Noi ci mettevamo sedute là e lei cercava di insegnarmi a suonare la chitarra. Tra l'altro questo orologio era suo. Io passavo molto tempo a guardare questa cosa sulla sua mano e... Lei è morta quando ero piccola, in un incidente d'auto. Mi dispiace tanto. Possiamo andare da un'altra... No, 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 io sto bene. Sicura? Sì, sì, sto bene, benissimo. Ma è salita su una barca? Ta-da! Questa è tua? No. Mi rado? Io... Cin... Quattro... Quattro volte... Quattro volte a settimana. Perché, Tiffy? I Seahawks. Perché? Perché sono forti. Una volta ero in un fast food e... Richard Sherman ha mangiato le mie patatine. Grandioso. Ok. Charlie... Ora ascolta. Katie... Sembrerebbe molto forte. Lo è. Ehi! Sta... Ehi! Sontando... Ciao! Ciao! Di che state parlando? Niente. Stavamo... Ci stavamo... Conoscendo. Grazie per avermi permesso di uscire con sua figlia, signore. Ok. Non dimenticare... La tua chitarra. Aspetta, la porto io. Pesa. Un attimo solo. Voglio farvi una foto. Charlie, ti porto a casa! Vai, Charlie, vai! Katie, che sta succedendo? Charlie, ti prego! Devi andare a casa il più veloce possibile! Charlie, ok, vado, vado! Katie, mi dici... Ti prego, vai e basta! Così mi stai spaventato! Devi accelerare ma più veloce! Ti prego! Ok, ok, ok! Katie! 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 Katie, vuoi parlarvi, per favore? Katie, ti prego, dimmi qualcosa! Ehi! E' dentro! Sì! E' dentro! E' dentro! Spostati! Spostati! Perché hai lasciato che succedesse? Cosa? Che succedesse cosa? Cosa? Lei non te l'ha detto! Cosa? Io non ho idea di cosa... È malata! È malata! Che vuol dire è malata? Lei ha l'XP! Non deve esporsi alla luce del sole! Potrebbe morire! Scusa! Katie! 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 Chui.